La direttrice di un hotel a nord di Napoli, titolare di una ditta individuale, avrebbe percepito illecitamente 796.760 euro di buoni vacanza. La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa ed ha sequestrato l'intera somma. I bonus, come si ricorderà, erano stati introdotti a sostegno del turismo a causa dell'emergenza Covid-19. Consistevano in un contributo fino a 500 euro per le famiglie con reddito Isee fino a 40.000 euro. Potevano essere spesi in un'unica soluzione per soggiorni in strutture ricettive in Italia, alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed and breakfast. Ma le indagini hanno rivelato che l'albergo in questione nel 2020-2021 aveva ricevuto cospicui versamenti dal Ministero del Turismo proprio per i buoni vacanze, ai quali non corrispondevano gli abituali volumi della struttura, per alto di sole 11 camere ubicate in una zona a bassa vocazione turistica. Il meccanismo fraudolento rivelato era il seguente. I clienti fittizi, che richiedevano il bonus e alloggiavano nell'hotel solo sulla carta, veniva corrisposto un rimborso dai 100 ai 300 euro. Si è calcolato che i beneficiari siano stati più di 2.000. Per tutti sarà erogata una sanzione. L'hotel dovrà difendersi dall'accusa di truffa ai danni dello Stato.